X-Ray One X-Ray One allarga i propri confini. Oggi il centro radiologico X-Ray One risponde a molteplici esigenze di natura medico-riabilitativa. La competenza e tecnologia avanzata lo rendono tra i più importanti complessi medici a livello nazionale. X-Ray One, appoggio rusco, è una struttura privata, moderna ed efficiente, accreditata dal Sistema Sanitario Nazionale. Il centro X-Ray One eleva i propri standard per essere riconosciuto in un territorio piuttosto ampio come struttura di riferimento attestata su alti livelli qualitativi, con riferimento alle realtà internazionali. Un'area di 5.000 metri quadrati, con strutture all'avanguardia, in cui il personale, affidabile e competente, opera nelle migliori condizioni possibili. X-Ray One è collocata tra i centri diagnostici autorizzati a derogare prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione. Un reparto fondamentale, fiore all'occhiello del centro, riguarda il comparto radiologico, strettamente legato a quello della diagnostica, che insieme permettono diagnosi precise ed un'archiviazione sistematica e digitale in tempi ristretti. Rissonanza magnetica, TAC, ecografia, ecocolordoppler, mineralometria ossea computerizzata e le diverse tipologie di radiologia, oltre a quella tradizionale. Dentale, senologica e interventistica sono le nostre strade investigative, il primo passo verso la risoluzione del problema fisico. La riabilitazione è una delle fasi più importanti per ripristinare la giusta condizione motoria. Una piscina di 10 metri per 5 ed una palestra per la riabilitazione sportiva completano un servizio altamente qualificato che si affianca a svariate specializzazioni mediche. Chirurgia, odontostomatologia, ma anche cardiologia ed un servizio di anestesia e terapia del dolore sono solo alcune delle specializzazioni di X-Ray One. Il territorio mantovano, ma anche le zone limitrofe, può trovare dunque un centro che riesce a soddisfare i molteplici bisogni legati alla salute, concentrando molti servizi in una struttura dinamica, attenta a tecniche innovative ed attrezzature in continua evoluzione tecnologica. Il 2011 è stato un anno di grande importanza. La struttura è stata ampliata allargando il ventaglio di specializzazioni inserite nel contesto sorto nel 2003, con l'aggiunta di odontoiatria e ortodonzia. Oltre 1.100 i metri quadrati di ampliamento, divisi su due piani. Spazio che è stato utilizzato, oltre che per i due nuovi reparti, anche per l'allestimento della piscina per la riabilitazione in acqua e della palestra attrezzata per il completamento di un recupero fisico-motorio ottimale. La tecnologia è importante in tutti gli aspetti del contesto X-Ray One. Le attrezzature per una diagnosi veloce ed efficace sono uno dei nostri punti di forza. Anche l'archiviazione dei dati e la definizione delle immagini di radiografie, risonanze magnetiche, oltre alle ecografie e le TAC, hanno il marchio di fabbrica di una strumentazione al passo con i tempi, che permette, sfruttandole nel miglior modo possibile, una tempistica sempre più ridotta. Grazie a tutti.